Il mio nome è Giorgia, ho 17 anni e sono un'adolescente come tante, una di quelle che ha la fortuna di stare a questo mondo, perché la strada non le ha ancora rubato la vita. Io non vorrei star qui a fare la morale se è giusto bere o se non è giusto bere, però vorrei dire una cosa a tutti coloro che guarderanno i miei video, vorrei dire, ma è necessario ubriacarsi e poi mettersi alla guida? Oppure, per quell'assurdo motivo non si allaccia il casco, forse non troverò mai una risposta a questi miei interrogativi, però un messaggio lo vorrei lanciare, anzi, forse più di uno. Servito? Provevo! E comunque, è meglio salvarsi la vita che rovinarsi i capelli, allacciate il casco. Adesso, immaginate che... Melania, Sebi, Martina, Claudia, Jessica, Alessandro, Pierpaolo... E immaginate che le loro voci siano lì a dirvi... Guarda che tu vivi anche per me! Vivi anche per me! Vivi anche per me! Grazie a tutti!